benvenuti a break salute dormito male ho già problemi di acidità e cattiva digestione e addormentarmi sul divano dopo cena non mi aiuta poi di notte fatica a digerire gli brucia lo stomaco si rigira nel letto e sveglia anche me il giorno dopo che fatica ma che fare allora può provare gavis con bruciore e indigestione agisce rapidamente in due modi gli antiacidi neutralizzano gli acidi in eccesso che possono causare una cattiva digestione in più il sodio alginato forma uno strato protettivo che ne evita la risalita spegnendo il bruciore di stomaco e non si faccia tentare troppo dal divano gavis con bruciore indigestione puoi sentire la differenza è un medicinale leggere attentamente il foglio illustrativo